bello a tutti ragazzi e benvenuti su fanfriance allora siamo a livello 40 allora dobbiamo fare 100 di papere 10 uova 10 di quelle 20 di quelle ok allora ehi dove vuoi andarte frate oh basta ursi porca troia ok e vabbè pensiamo male ancora sti orsi maledetti devo fare un botto di robe qua che cazzo e 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 da fino al collo vai muoviti stupido coso che stanno morendo le anatre e e e e e e ciao impossibile a fare sto mica di livello facciamo così vendiamo tutto e che mi riscalano porca troia e va a cagare allora allora e e e e e e e e e ok devo fare ok no ah ok mi pensavo che si era buggato che non meritava parca troia guarda a me mi servono per fare le cose ok quattordici iniziamo a vendere le frittelle e e e queste e questi ok ok abbiamo finito anche quelle dobbiamo fare le uova e l'anatre allora vai che abbiamo finito ormai yes allora andiamo avanti cinque hamburger e due maiali fattibile fattibile dai e la madonna non è più fattibile frate eh porca troia eh tosta si cioè come fai a farle in un minuto e trentasette dai facciamo così ok ok ti ho quasi potenziato tutto allora questo e questo e questo ho finito i piccioli e però adesso vendi tutto vaffanculo ma sai cosa ti dico prendi anche un gatto perché almeno mi prende le risorse ah posso fare anche un hamburger bella uova e manca il bacon e le uova abbiamo da bere allora qua boom 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 brava intanto possiamo fare lo speck e siamo ne manca uno uno ne manca dai bacon 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 dai 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 boom siamo a 5 manca un maiale e siamo a posto quindi vendi tutto boom finito il livello ma si facciamo ancora uno dai vediamo se è lungo è abbastanza allora vendiamo il latte vai sta finendo tutto muoviti dio eh buon adesso cioppano ecco sapevo io che cioppavano ecco 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 Ok, ok, ok Andiamo a lavorare tutto Quanto il gatto fa il lavoro Anche ne devo fare 16 Eh, non tanto Facciamo anche il formaggio Ok Ok Dai, dai Ok Dai che abbiamo quasi finito Mi manca ancora Il formaggio Ok, il formaggio l'abbiamo fatto Mi manca solo il latte condensato Che è questo Livello completato Io ragazzi direi che Questo video Può terminare qua Ci vediamo alla prossima volta Ciao Ciao